Questo pezzo così pesante è davvero poco pesante, guardatelo qua, allora da classe, allora avete problemi di spazio a caso, giardino stretto, dovete metterlo a posto, armato, viene, su condizione entra a due ruote, non ve ne accorgete neanche, quindi naturalmente per i cartelli che fin con il cartellino, il cartellino, poi.